Ok, perfetto. E io vengo a fare da testimone. Addirittura? Eh sì, è perché sei stato uno dei primi che... Sono stata io una delle prime che ti ha fatto un po' festa quando sei venuto la prima volta su Alla Roccia, se ti ricordi. Sì, sono venuto le primi volte. Ah, guarda. Grande. Eccezionale, simpaticissimo, veramente. Allora, siamo qui qua. Qua c'è da girare come i matti e fare tutta... Tutta la sala. Noi anche ancora l'ho fatta tu. Hai mangiato qua solo? Hai mangiato già? Io no. Vado a mangiare? Dai, ve lo reggio un attimo per mangiare. Allora, che faccio? Allora... Allora Allora... Grazie.